Buongiorno, fateci caso, lo avrete notato sicuramente. Quando ci sono il lunedì caldi, quando il lunedì ci sono discussioni calde su episodi arbitrali in teoria favorevoli al Milan, solitamente dai vertici arbitrali trappelano tesi e sussurri destinati a dare ragioni a chi sta protestando per quegli episodi arbitrali in teoria favorevoli al Milan, dico in teoria perché nessun arbitro vuole essere favorevole o contrario a una squadra ma prende delle decisioni sulla partita e non contro per una squadra. Ma quando ci sono decisioni arbitrali in teoria favorevoli al Milan, dai vertici arbitrali trappelano sempre commenti che soddisfano chi sta protestando contro quelle decisioni arbitrali. Quando invece ci sono degli episodi arbitrali in teoria sfavorevoli al Milan, la regola non vale. Quando ci sono episodi arbitrali in teoria sfavorevoli al Milan si interviene, si interviene subito e naturalmente si dà ragione a chi non protesta, cioè a chi sostiene che ad esempio che il fuorigioco di Giroud è attivo. Vorrei dire due cose su Giroud. Giroud è stretto a sandwich da due giocatori del Napoli, allarga il braccio non per fare la cintura su Juan Jesus ma per prendere elevazione e finisce a terra perché è stretto a sandwich da due giocatori del Napoli. Per il fatto di essere stato stretto a sandwich ed essere finito a terra Giroud è stato punito. L'unico giocatore che tocca la palla e che tenta di toccare la palla mentre a terra è Juan Jesus la tocca, forse per lui sarebbe stato meglio non toccarla, magari non ci sarebbe stato quel rimbalzo, non ci sarebbe stato il passaggio verso che sì, non ci sarebbe stato il gol, però l'unico che la tocca è Juan Jesus. Ma siamo nel campo delle interpretazioni. Avevo capito che non si dovevano dare i rigorini, adesso invece si danno i fuorigiochini. Quindi insomma va bene così. Tanto il problema non è il punto, non il punto, ma come vedremo poi la prestazione e terrò in grande considerazione quello che ha scritto oggi a Rigosacchi sulla Gazzetta dello Sport. Un altro tema è la reazione alla decisione arbitrale di Massa e del VAR di Paolo, di Paolo che non era riuscito a cogliere in Milan-Verona il fallo di Kalinic su Romagnoli, aveva confermato il rigore contro il Milan, questa volta invece è stato fine e raffinato. In Milan-Verona non era evidentemente ispirato, questa volta invece sì. Bene, siamo felici per lui, c'è stato un progresso, un miglioramento, un avanzamento. Bene così. Per quanto riguarda invece la reazione, Stefano Pioli ha parlato dopo la partita fra Milan e Napoli e quando un allenatore parla, riferendosi agli episodi arbitrali, lo fa sempre dopo essersi consultato con la società. Lo dicevo anche, vi ricorderete, l'anno scorso dopo il Milan-Uventus, la scorsa stagione, dopo il Milan-Uventus di gennaio di quest'anno, dopo il Milan-Uventus del gennaio 2021, quando Pirlo aveva detto, siamo venuti a dominare, eccetera, eccetera, eccetera. Lo facevo notare che quelle dichiarazioni e anche quelle arbitrali rilasciate da Pirlo sull'esistenza di un fallo prima del gol del pareggio di Calabria sono sempre concertate con la società. E vale lo stesso anche per Pioli. Pioli quando esprime la sua opinione sull'episodio di Milan-Napoli lo fa dopo aver condiviso il suo pensiero con la società, non fa l'eretico Stefano Pioli, esprime un concetto condiviso da tutto il Milan e lo ha espresso senza avere nessuna affinità con lo stile che hanno altri allenatori, Gasperini ha i suoi toni, Inzaghi ha i suoi toni, Spalletti ha i suoi toni. Pioli ha diritto di avere i suoi ed è entrato nel merito. La sua polemica non è stata sterile, non è stata un'invettiva, non è stata teatrale, ma è andata al punto. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta molto correttamente che l'amarezza del Milan non si è affievolita con le parole di Pioli e che il Milan nelle sedi istituzionali, nelle sedi competenti, nelle sedi opportune si è fatto e si farà sentire. La Gazzetta aggiunge anche, forse anche pubblicamente, questo non credo, ma il Milan nelle sedi opportune si è fatto sentire e si farà sentire. E questa è la linea del Milan, cioè pensare o ritenere è legittimo che rispetto agli arbitraggi un club debba andare davanti alle telecamere a sbraitare. C'è qualcuno che lo pensa, lo dice, benissimo, è libero di esprimere la sua opinione, mancherebbe altro al cielo, ma non è questa la linea del Milan, non è questa la scelta del Milan. Il Milan non va davanti alle telecamere a sbraitare, quando parla di episodi arbitrali lo fa sul punto, sul merito e non fa imbettive o polemiche sterili e dialoga attivamente e in maniera consistente con le sedi istituzionali al di fuori delle telecamere. Questa è sempre stata la linea di questa proprietà, di questa società, di questo management, di questa dirigenza e continuerà ad essere questa. Veniamo ad Arrigo Sacchi, veniamo alla prestazione, perché sapete, anch'io non mi infervero molto sul gol di che sì, per carità, sarebbe servito a tenere a meno tre il Napoli, certo che fa differenza, mancherebbe altro, però un punto in più, un punto in meno, non è successo nulla di irreparabile. Il problema, il tema, quantomeno la questione, più che il problema, la questione è la prestazione. Arrigo Sacchi questa mattina sulla Gazzetta dello Sport dice una cosa che ho seguito con molta attenzione, con molto interesse, condividendola molto. Arrigo dice anche il Milan l'anno scorso ha avuto molti infortuni, ma non era un problema. E mi fa piacere che Arrigo l'abbia scritto, perché ho sempre pensato anch'io che il problema degli infortuni sia importante, ho sempre detto che è il nostro principale avversario, qualcuno se l'è perso, se lo va da riascoltare almeno cinque volte, però ho sempre detto poi c'è la partita, non drammatizziamo il problema degli infortuni che c'è, ma non va drammatizzato, perché comunque la squadra ha sempre dimostrato di fare bene anche nel momento degli infortuni. L'anno scorso noi, anche in emergenza e infortuni, abbiamo fatto bene, ricordo che il calo vero c'è stato poi ad aprile, quando la squadra era quasi in formazione titolare, poi abbiamo reagito a maggio e siamo andati in Champions League, ma quando ad aprile c'è il calo, la squadra era quasi al completo. Cosa dice Arrigo Sacchi? Arrigo Sacchi dice che anche l'anno scorso il Milan ha avuto un'emergenza e infortuni, ma non è mai stato un problema, perché la squadra è sempre stata organizzata, è sempre stata con 11 uomini attivi per la conquista e la gestione della palla. Quest'anno invece, nota Arrigo, questo è un suo pensiero più che il mio, la squadra è meno compatta, meno organizzata e si muove individualmente dentro l'emergenza e infortuni, alla quale reagiva nella scorsa stagione in un'altra maniera. Ed è un po' questo il punto che vorrei toccare, io non credo che quest'anno siamo meno organizzati dell'anno scorso in emergenza e infortuni, non credo questo. Credo però che l'anno scorso, quando c'era l'emergenza e infortuni, la squadra riuscisse a sfoderare una compattezza, uno spirito, un'umiltà, una voglia di arrivare a risultato diversa da quella di quest'anno. Quest'anno mi sembra, è vero che la Rosa è più forte secondo me, ma mi sembra che quest'anno la squadra faccia in emergenza e infortuni più o meno le stesse partite che fa quando è senza emergenza e infortuni. E questo è evidentemente un tema su cui riflettere, perché ci vogliono altre unghie, altri denti, altra attenzione, altra intensità quando si è in emergenza e infortuni. Cosa che l'anno scorso avevamo, penso a Sassuolo, penso a Verona, penso a Bergamo, è che quest'anno ogni tanto mi sembra di non vedere, soprattutto nei primi tempi di Udine e di Milan-Napoli. Sensazioni, naturalmente torneremo a discuterne. Oggi la conferenza stampa di Stefano Pioli che commenteremo dopo le parole del nostro allenatore.